La composizione della nuova giunta al Comune di Potenza resta ancora avvolta da polemiche attese. Il sindaco De Luca continua a ripetere di voler andare avanti nonostante i veleni di ex amici e vecchi rivali. Fratelli d'Italia, per avere indicazioni sul da farsi, si era rivolto a Giorgia Meloni, leader nazionale del partito. Anche il PD, ora in attesa della decisione della direzione nazionale sull'ingresso in giunta con De Luca. La situazione ingarbugliata e accesa ha spinto molti a chiedere al sindaco di farsi da parte. Quest'ultimo eletto, ricordiamo, con una coalizione di centrodestra però dichiarato di non voler interrompere il cammino avviato sulla strada del risanamento economico del capoluogo. Anche da centro nel frattempo arriva una bocciatura per il primo cittadino. A recapitargliela è il consigliere regionale dell'Udc, Franco Mollica, che non perde la battuta politica anche per prendere le distanze dal senatore viceconte e da Vincenzo Taddei, di nuovo centrodestra, che solo qualche giorno fa hanno voluto mettere il cappello sul sindaco e sull'amministrazione comunale. I rumors riferiscono di una imminente campagna acquisti del partito di Alfano, pronto ad accogliere Rocco Coviello e Dino Bellettieri, gli assessori sfrattati da Fratelli d'Italia, in caso di giunta con il PD. Non solo, le recenti dichiarazioni fatte dagli esponenti di nuovo centrodestra e la volontà di sostenere a tutti i costi De Luca, pur avendo candidato a sindaco Cannizzaro con Forza Italia, vengono lette come un modo per intestarsi il nuovo corso politico del capoluogo nello scenario delle larghe intese. Mentre la situazione politica resta in stand-by, è arrivata però una buona notizia per il Comune di Potenza. Il Ministero dell'Interno, con una nota firmata dal Viceprefetto Mauceri, ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.